Musica Benvenuti all'edizione della notte del telegiornale di Telemolisi. In apertura subito l'andamento della pandemia, nuovo balzo in avanti dei contagi in regione. Nel bollettino di oggi ci sono 53 positivi su 955 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 5,5%. Ci sono però anche 35 guariti. La situazione resta invariata in ospedale dove restano 10 i pazienti ricoverati. Per quanto riguarda i nuovi contagi, più della metà si registrano a Guglionesi che si conferma il centro più colpito degli ultimi giorni. Solo oggi 30 nuovi casi in paese. Ci sono poi 6 casi a Termoli, 3 a Campobasso e Sepino, 2 casi a Isernia, Mafalda e San Giacomo. Un solo caso a Larino, Montaquila, Palata, San Martino e Trivento. E proprio a causa di alcuni contagi in paese, il sindaco di Sepino ha disposto la didattica a distanza a scopo precauzionale per le scuole del paese da domani e fino al 4 dicembre. Lasciamo la pandemia, parliamo di cronaca. Ci sono novità nella vicenda del neonato, nel bambino nato o morto nei giorni scorsi all'ospedale di Isenia. C'è un'inchiesta su questa tragedia. Oggi è stato nominato il medico che dovrà eseguire l'autopsia. Autopsia che sarà effettuata venerdì prossimo. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Affidato dalla procura di Isernia al professor Pietro Antonio Ricci, ordinario di medicina legale dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpicino del bambino nato o morto all'ospedale veneziale martedì scorso. Il docente universitario di 67 anni, originario di Benevento, è un medico legale abbastanza noto a livello nazionale perché partecipò all'autopsia sul corpo del giudice Paolo Borsellino e relazionò anche su quella precedente di Giovanni Falcone. Ricci ha accettato l'incarico e ha fissato per venerdì mattina la data dell'esame autoptico che comunque sarà una perizia collegiale a cui parteciperà anche la controparte rappresentata dal medico legale Nico Buccieri, nominato dai cinque sanitari indagati per omicidio colposo. Giusto una settimana fa il tragico evento all'ostetricia del Ferdinando Veneziale, stando alle indiscrizioni tutte comunque da confermare perché sulla vicenda vige il più stretto riservo giudiziario, una giovane donna di Venafro alla sua prima gravidanza viene ricoverata al Veneziale per un parto cesareo d'urgenza, infatti nove mesi o le classiche 40 settimane non sarebbero ancora terminate ma il tracciato dell'ecografia avrebbe consigliato un ricovero precauzionale. Portata al Veneziale viene subito trasferita in sala parto ma nonostante tutti i disperati tentativi dai medici e del rianimatore presente in sala, il bambino non si salva. Cosa è successo? Ci sono responsabilità? O è stata solo una tragica fatalità? Può essere il cordone umbilicale la causa di quanto accaduto o la tragedia poteva essere in qualche modo evitata? Tutte domande a cui risponderanno in aula di tribunale i medici legali, quello della procura e quello nominato dai cinque indagati. L'indagine con l'autopsia e tutto ciò che ne conseguirà nasce dal fatto che i giovani genitori non si sono rassegnati, hanno presentato una denuncia per omicidio colposo e vogliono conoscere tutta la verità per capire perché il loro bambino, tanto desiderato e aspettato, non è mai nato. Ancora la cronaca. Nella tarda serata di ieri e poi ancora questa mattina i vigili del fuoco di Campobasso sono intervenuti per una sospetta esalazione di gas avvenuta vicino ad una fabbrica del nucleo industriale di San Polo Matesi. Ad avvertire l'odore nauseabondo sono stati diversi dipendenti della fabbrica che hanno riferito di aver avuto capogiri. I pompieri, vedete alcune immagini del loro intervento, sono arrivati sul posto con il nucleo batteriologico e chimico. L'area è stata messa in sicurezza mentre gli accertamenti per l'identificazione della sostanza sono ancora in corso sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri di Guardiareggia e i tecnici dell'ARPA molise che hanno effettuato dei prelievi. C'è stato invece un incendio in un deposito agricolo di Fornelli. I vigili del fuoco di Seria in questo caso hanno domato le fiamme riuscendo così a contenere i danni e a salvare l'impianto fotovoltaico e a mettere in sicurezza alcune bombole di GPL. Non ci sono stati feriti, anche in questo caso vedete delle immagini dell'accaduto. Adesso cambiamo argomento. Una mozione a firma di Micaela Fanelli presentata in Consiglio regionale impegna il commissario Toma ad approvare il piano del personale per la sanità molisana. In previsione ci sono 912 assunzioni. Nel documento si chiede anche la revisione dei concorsi appena banditi e impegni per le partite IVA. Sentiamo Pasquale Di Bello. La sanità molisana ci prova a ripartire sul fronte delle assunzioni. Banditi dall'ASREM, due concorsi per 45 infermieri e 5 operatori sociosanitari. Una soluzione parziale e insufficiente per la capogruppo in regione del Partito Democratico Michela Fanelli che ha presentato una mozione che impegna su vari fronti il presidente commissario Toma. Tra questi la revoca o la modifica dei bandi appena adottati e la loro messa in linea con Reale fa bisogno di personale stimato dalla stessa azienda sanitaria regionale in 912 unità. Personale da reclutare in tre anni. Al piano dei fabbisogni 2021-2023 manca, dice Fanelli, l'approvazione da parte del commissario ad acta. A questi temi Fanelli ne aggiunge altri due. Il recupero nel piano assunzionale degli operatori sociosanitari che hanno prestato la propria opera nella fase acuta della pandemia. Personale assunto a partita IVA e per il quale è necessario un intervento parlamentare affinché possa essere equiparato agli altri operatori ai fini della stabilizzazione. Su questo versante Fanelli sta lavorando insieme al parlamentare del Movimento 5 Stelle Antonio Federico per la presentazione di un emendamento al DDL Bilancio 2022 elaborato dal governo. La vicenda dagli esiti incerti merita la massima considerazione, soprattutto rispetto a figure che hanno letteralmente operato a mani nude contro il Covid quando la pandemia si è manifestata nella sua fase più cruenta. Gli angeli del Covid, come sono stati chiamati, hanno diritto a concorrere al pari degli altri alle stabilizzazioni previste da Draghi. Inoltre, sempre la mozione Fanelli propone l'introduzione di una nuova figura professionale, l'infermiere di famiglia o di comunità. Dai concorsi banditi dall'azienda sanitaria regionale, manca la riserva in favore delle categorie protette. Una lacuna che va corretta. E adesso la polemica tra il sindaco di Campobasso e il geriatra Mino Dentizzi dopo la revoca di quest'ultimo dall'incarico di presidente della casa di riposo Pistilli di Via delle Frasche. Tra il Dentizzi e il sindaco, nelle ultime ore, botta e risposta. Ce ne parla Tonino Danese. Per qualche giorno ha scelto di non parlare il geriatra Mino Dentizzi dopo che il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, gli ha revocato l'incarico di presidente della casa di riposo Pistilli di Via delle Frasche a Campobasso. Ora ha replicato a un video proprio di Gravina in cui il primo cittadino ha spiegato i motivi della decisione della revoca sofferta, dichiarato perché mai sono state messe in discussione le competenze e la professionalità di Dentizzi. Non c'è stata mai nessuna condivisione su nulla per quanto riguarda le scelte gestionali, la rendimentazione e l'andamento economico e ribadisco ancora una volta la figura di un direttore sanitario che è fondamentale in una casa che ospita tanti anziani e quindi persone fragili. Dovuto addirittura a conoscere dai giornali del cluster che è esploso all'interno della Pistilli. Dentizzi ha dunque rotto il silenzio e voluto fare delle precisazioni in particolare sulla debito della mancata nomina di un direttore sanitario. Le case di riposo ha detto per poter funzionare devono essere accreditate per ottenere l'accreditamento, devono rispettare precisi e inderogabili requisiti strutturali, organizzativi e di personale. I comuni che ospitano le case di riposo, ha continuato Mino Dentizzi, sono deputati alla concessione dell'accreditamento e alla verifica periodica del rispetto delle normative stabilite dalla regione. Il geriatra ha precisato che la casa di riposo Pistilli di Via delle Frasche è stata accreditata dal comune di Campobasso. Se il sindaco ritiene che non rispetti gli standard organizzativi e di personale e l'interrogativo di Dentizzi, perché non procede alla revoca dell'accreditamento? Ma non può farlo, ha continuato, perché la struttura rispetta quanto richiesto dalla normativa regionale, in cui non è previsto assolutamente il direttore sanitario. Infatti nessuna casa di riposo in Molise ha aggiuntone a uno, ma prevede che la direzione debba essere affidata a un assistente sociale. Figura che la Pistilli ha. Di qui l'invito di Dentizzi al sindaco Gravina di rileggere o leggere per la prima volta il regolamento regionale e in particolare l'articolo 51. Per ora ci fermiamo qui. Sono troppi i punti risolti che gravano in modo pesante sulla funzionalità della scuola e del personale scolastico. Lo sostengono Cigelle, Will, Snals, Confsale e Gilda che anche in Molise, come nel resto d'Italia, a Campobasso hanno manifestato oggi davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale. Vedete le immagini. Superare il precariato, stabilizzare il personale, sbloccare la mobilità, valorizzare il personale ATA tra i temi per i quali i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione oltre al tema del rinnovo dei contratti. Hanno consegnato al direttore dell'ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini, un documento unitario con i punti della protesta da far avere al ministro. Se non ci saranno risposte, siamo pronti a indire uno sciopero della categoria, hanno detto i sindacati. E adesso torniamo ad occuparci delle elezioni provinciali di Isernia. si era parlato negli ultimi giorni dell'ipotesi di una lista unitaria, ipotesi che ora sembra tramontare. Sentiamo. Elezioni provinciali del 18 dicembre. Niente da fare. Alfredo Ricci ha dovuto rimettere i suoi sogni nel cassetto e accettare il suo malgrado. Il punto di vista di Piero Castrataro, sindaco di Isernia, che ha bocciato e rispedito al mittente la proposta di listone unico avanzata dal presidente della provincia. In conclusione, come a Palazzo Magno a Capobasso, anche in via Berta-Isernia ci sarà la classica contrapposizione centro-destra contro centro-sinistra. È evidente che Piero Castrataro vuol cavalcare l'onda della recente vittoria alle comunali di Isernia, si sente il vento in poppa e vuol provare, con una sua lista, civici più PD, grillini e partiti di sinistra, a vincere anche in via Berta. Ci riuscirà? Bella domanda. Il no del sindaco di Isernia all'istone del Tutti Insieme, proposto da Ricci, nasconde il vero obiettivo del centro-sinistra allargato, usare le provinciali di Isernia come test per le regionali del 2023. Dopo aver vinto a Boiano, Agnone e Isernia, infilando tre successi consecutivi, il cosiddetto campo largo del centro-sinistra molisano, alternativo al centro-destra, vuol puntare al colpo grosso in via Genova a Campobasso. Alfredo Ricci, con la sua proposta di listone dei sindaci, puntava invece ad una sorta di tregua, un armistizio temporaneo, cioè un vogliamoci bene, con i sindaci dei maggiori comuni, Isernia, Venafro, Agnone e Frosolone, che avrebbero indicato dieci nominativi a loro scelta e di tutti i partiti, per un consiglio provinciale, omnicoprensivo e trasversale. Una proposta che sembrava aver ottenuto anche un mezzo via libera da Agnone, ma Isernia ha detto no e Saia, ieri, non si è neanche visto all'ultima riunione, quella in cui Castataro ha lanciato il guando di sfida ad Alfredo Ricci. Ora il centro-destra deve fare in fretta, e anche tanta fretta, perché quella in via aberta già si preannuncia, come con le elezioni comunali di Isernia, un'altra prova di forza in vista delle regionali, con Alfredo Ricci, che potrebbe anche finire impantanato nella classica situazione dell'anatrazzoppa, ovvero una maggioranza in contrapposizione alla sua presidenza. Anche se potrebbe non essere così, perché, non lo dimentichiamo, Alfredo Ricci, quando fu eletto sindaco di Venafro, lo fu con una lista civica e di centro-sinistra, in contrapposizione a Nicandro Cotugno, esponente del centro-destra. Scongiurata al momento la realizzazione del parco fotovoltaico di San Martino in Pensilis. L'azienda è ricorsa al TAR dopo che i giudici del Tribunale Amministrativo del Molise hanno negato la sospensiva chiesta dalla ditta che ha presentato il progetto, boggiato sia dalla conferenza di servizi che dalla Regione Molise. L'udienza di merito è fissata a ottobre del prossimo anno. Intanto, in questo mese, i giudici avevano già respinto il ricorso contro i provvedimenti della soprendentenza del Consorzio di Bonifica del Comune di San Martino. Il progetto è stato bocciato perché interessa amare con vincoli culturali e il tratturo Ururi-Serra-Capriola. A rappresentare il Comune di San Martino nel giudizio di Nancy Altar è stato l'avvocato Massimo Romano. Cambiamo adesso argomento. La violenza non ha confini e spesso ha le chiavi di casa. È stato questo il tema dell'incontro che si è tenuto a Iserni, all'Hotel Europa, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne che ricorre giovedì prossimo. Sentiamo Barbara Fino. Una donna uccisa dalla violenza di un uomo lascia un vuoto che non può essere dimenticato. La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c'è più, portata via dalla violenza. Sono due le panchine, simbolo della battaglia contro i femminicidi, che sono state inaugurate all'Hotel Europa di Isernia durante l'incontro, promosso dall'assessorato alle politiche sociali della regione molise, che saranno installate nel comune di Collio Volturno e nel centro storico della città di Isernia. Durante l'evento sono state affrontate tematiche come la violenza di genere al tempo del Covid e la violenza di genere a due anni dall'entrata in vigore del Codice Rosso. Io credo che bisogna partire dalle scuole, bisogna andare nelle scuole, perché la violenza sulle donne, che è molto spesso praticata dagli uomini, deve portarci ad educare i nostri ragazzi nelle scuole al rispetto delle donne con cui ha a che fare anche nel quotidiano. Commoventi le testimonianze e i messaggi di vicinanza che sono giunti in occasione del convegno per dire basta all'incubo che molte donne vivono tra le mura di casa, subendo abusi e minacce dal proprio compagno. Tra questi, anche la presentazione del libro della scrittrice Deborah Alice Riccelli Non si può morire per un no, ispirato alle vittime di femminicidio. Non si può morire per un no. Credo che tutti si debbano interrogare. Dovremmo parlarne nelle scuole, in casa, al bar, ovunque. Bisogna parlarne sempre. Questi incontri servono, servono perché creano anche delle sinergie, nuovi incontri, nuove storie e il filo rosso deve continuare. Ad intervenire durante l'incontro il procuratore capo della Repubblica di Sernia, Carlo Fucci, che ha sottolineato l'importanza di tenere costantemente alta la guardia verso il femminicidio, che in questo 2021 conta di ben 103 vittime. Toccante anche la testimonianza della madre di Veronica Abate, la 19enne campana uccisa a colpi di pistola dall'ex fidanzato che si è appellata alle istituzioni e alle donne. La donna deve denunciare, la donna deve essere come una fenice che si riscatta dalle ceneri. La donna deve tirare fuori tutto il coraggio che ha, deve denunciare, deve la figura della donna che dobbiamo mostrare, la figura dell'araba fenice, la figura che da sotto alla cenere ci si può sempre riscattare. La donna è forte, la donna è intelligente, così deve essere vista la donna sia dai primissimi giorni della vita di un bambino. E a proposito di violenza sulle donne, a Termoli è messa due misure cautelari di divieto di avvicinamento e di parlare con la vittima. La prima nei confronti di un 26enne che più volte ha aggredito verbalmente e fisicamente l'ex compagna, la seconda invece nei confronti di un 38enne di origini campane residente a Termoli, colpevole di una serie di atti persecutori e diffamatori nei confronti dell'ex fidanzata. E invece è sempre a proposito di cronaca, evade dai domiciliari e viene arrestato dai carabinieri di Termoli, protagonista della vicenda un 49enne di Trapani ma residente in Molise che è stato fermato dai militari per avere evaso i domiciliari. Era stato ristretto proprio ai domiciliari in seguito ad una rapina a mano armata. Dopo le ricerche, l'uomo è stato trovato in un bar a consumare superalcolici e a importunare i presenti, in particolare il titolare del bar più volte anche minacciato. Salute e cultura per promuovere l'attività fisica nei pazienti affetti dal diabete. È stato e questo l'obiettivo dell'iniziativa chiamata Diabete al Centro. Ce ne parla Francesca Danversa. Diabete al Centro, il nome dell'iniziativa promossa da dottoressa Carla Scarano, dirigente medico della diabetologia dell'ospedale Santimotio di Termoli in occasione della giornata mondiale del diabete. La dottoressa Scarano ha illustrato ai partecipanti quanto sia importante la terapia medica seguire una corretta alimentazione e fare una costante attività fisica. È una patologia un po' subdola perché non dà segni di sé, non dà sintomi e quindi proprio per questo motivo molto spesso viene diagnosticata in ritardo. Molto importante è, sì, la terapia appena viene fatta a diagnosi, ma la terapia da sola non basta. C'è bisogno di un corretto stile di vita, di una giusta alimentazione e di una sana attività fisica, naturalmente compatibile con tutto quello che è il quadro clinico del paziente. E oggi abbiamo voluto mettere insieme l'importanza dell'attività fisica che è il centro del diabete insieme alla terapia e naturalmente insieme all'alimentazione e anche quello che è tutto il centro storico di questa magnifica città. Oggigiorno abbiamo a disposizione una vasta scelta di farmaci che non sono pericolosi, ha detto la dottoressa Scarano. Le terapie farmacologiche vengono somministrate ad hoc per ogni paziente. L'iniziativa ha visto la partecipazione dell'Associazione Diabetici del Basso Molise e del suo presidente Pino Ferrieri che ha sottolineato che con il diabete si può convivere con l'aiuto di specialisti e un corretto stile di vita che include l'attività fisica. Anche una semplice passeggiata può aiutare. Camminare per il diabetico sia tipo 1 che tipo 2 è fondamentale. Quindi può risolvere tantissimi problemi. C'è sempre bisogno del medico diabetologo. Però se tutti i diabetici tipo 2 fatto salvo le patologie che possono esserci che non c'entrano niente quindi camminare fa bene e risolve può risolvere anche il problema. Per l'occasione si è deciso di unire l'attività fisica all'arte e un perfetto connubio tra salute e cultura. Una passeggiata nel centro storico di Termoli a fare da guida il presidente dell'archeoclub Oscar Delena che ha illustrato ai partecipanti la storia e le bellezze monumentali del borgo antico. Abbinare questa passeggiata e raccontare parte della storia antica di Termoli per cui siamo partiti all'ingresso della porta del borgo antico l'unica porta che esisteva fino a circa 200 anni fa e abbiamo fatto un tour turistico per le stradine e le piazzette del borgo per ricordare la millenaria storia di questa città. Campobasso avrà una strada o una piazza dedicata all'Ea Garofalo stamattina in consiglio comunale è stata approvata all'unanimità una mozione in materia presentata dai consiglieri del centro-sinistra la Garofalo uccisa dall'ex compagno per non aver voluto rispettare il vincolo mafioso del silenzio ed aver invece testimoniato sulle faide interne tra la sua famiglia in Calabria prima di essere uccisa in Lombardia nel 2009 visse anche a Campobasso dove aveva subito un tentativo di sequestro adesso parliamo di tartufi perché l'organo di valutazione dell'UNESCO ha espresso un primo parere positivo per il riconoscimento della ricerca e della cavatura bisognerà ora attendere però la decisione definitiva del comitato coinvolto ovviamente anche il Molise in particolare il territorio di San Pietro Avellana sentiamo Alessandra Potena un'attesa durata 8 anni una buona notizia per i tartufai associazioni per la federazione nazionale tartufa italiana e per l'associazione nazionale delle città del tartufo che dal 2013 lavorano per la valorizzazione del prodotto è arrivato infatti un primo parere positivo da parte dell'organo di valutazione dell'UNESCO che ha esaminato la domanda presentata nel 2019 dall'assessore all'agricoltura Nicola Cavaliere per il riconoscimento della tradizionale ricerca e cavatura ed è proprio l'assessore che sulla sua pagina facebook ha espresso grande soddisfazione questo addetto sarebbe una grande vittoria per il Molise nella nostra regione infatti è presente il tartufo bianco pregiato che spesso assume dimensioni di peso in misura da record e la produzione rappresenta circa il 60% di quella nazionale questa notizia è stata accolta con positività ed entusiasmo a San Pietro Avellana da sempre considerato il paese del tartufo e dal sindaco e vicepresidente dell'associazione città del tartufo Simona De Caprio l'iscrizione ha detto la De Caprio comporterà un maggiore e costante impegno per trasmettere i valori della tradizione millenaria alle nuove generazioni bisognerà dunque attendere la riunione del comitato intergovernativo prevista in Francia dal 13 al 18 novembre che valuterà dopo aver visionato le caratteristiche tecniche proposte ora il futuro del tartufo molisano ha la data scritta a Parigi e per chiudere parliamo di musica a Campobasso all'auditorio del liceo classico Mario Pagano c'è stata l'esibizione dell'orchestra da camera Calos Ensemble una serata promossa dall'associazione musicale Calos per noi c'è la Patrizia Testa grande successo per il concerto dell'orchestra da camera di Campobasso Calos Ensemble diretta dal maestro Daniele Terzano suoni armonici che hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio nella musica classica uno spettacolo diviso in due parti nella prima parte le note di Bach Elgar e il doppio concerto per violino e violoncello in si bemolle maggiore di Vivaldi interpretato da Rocco Roggia e Antonio Iannetta un programma abbastanza variegato dal punto di vista proprio dei secoli di musica che abbiamo di fronte in particolare faremo due corali di Bach che sono due trascrizioni di corali per organo che vengono adattati per l'orchestra e trascritti per l'orchestra poi abbiamo messo il concerto per violino e violoncello in si bemolle dove appunto io con il mio collega Antonio Iannetta faremo solisti nasco violoncellista ho iniziato all'età di 10 anni e ho studiato con il maestro Michele Giapperino qui a Campobasso al conservatore Lorenzo Perosi e poi sono andato avanti negli studi spostandomi tra Milano Trieste qui in Molise sono il primo violoncello solista di quest'orchestra di questo nuovo ensemble il Carlos Ensemble che è una giovane formazione ma che devo dire ci sta dando già tante soddisfazioni nella seconda parte il doppio concerto per bandoneon e chitarra di Piazzolla con Mario Muccitto e Isidoro Nugnes ho iniziato a studiare questo strumento che è chiamato bandoneon che è uno strumento che sostanzialmente ha un repertorio di tanchi in modo particolare perché questa sera noi eseguiremo Piazzolla il doppio concerto di Piazzolla ha chiamato anche omaggio a Lige perché lo scrisse nel 1985 in occasione di un concorso internazionale di chitarra perciò la formazione in duo con la chitarra una particolarità di Piazzolla è stata quella sicuramente di avere avuto una certa affinità con l'ambiente chitarristico con le sei corde diciamo perché nella sua carriera da compositore ha scritto numerose opere per questo strumento l'evento organizzato in onore di Santa Cecilia patrona della musica è stato promosso dall'associazione musicale Calos i nostri obiettivi sono quelli di promuovere e divulgare la musica classica e non solo nel territorio regionale essere presenti con un ensemble nella nostra regione il concerto si è svolto a Campobasso nell'auditorium del liceo classico Mario Pagano bene questo era il nostro ultimo servizio termina qui l'edizione della notte del Tg di Telemolise io vi ricordo domattina dalle 7 il nostro primo telegiornale e la rassegna stampa domani buonanotte e la rassegna stampa